Domenica ti porterò sul lago Gaetano entra a sinistra e fagli paura Fagli paura, fagli paura, fagli bu Fagli bu, da dietro Ecco il signore Fagli bu, bu Buonasera Con la mente che, come si usa a dire Proprio come negli studi di Domenica Bestiale Diventa più estesa del cielo E forse il fatto che siano presenti nel salotto d'Italia 7 Così tanti addetti alla psicologia Qualche pensierino di troppo Certamente lo suscita Con chi sta parlando? Quanto sei alto? 1,60, super giù 1,60 dove? Allora c'hai i tacchi oggi No, c'ho i tacchi a squillo dopo però Ah, dopo? Ah, ma mai l'avano detto No, no, vabbè Ma noi non sono se tu mi guardi No, 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 ci credo Ci credo, ci credo Anzi, vuoi più un qua Con i presenti in studio Nonché, nemmeno a dirlo l'inviato Gaetano Gennai Sotto l'attenta analisi Del dottor Loris Pinsani E della dottoressa Lisa Lazzini Eh, dottoressa Lisa In Psicologia Psicologia E guarda caso Accanto chi c'è C'è il dottor Pinsani Che è tornato a trovarci Guarda caso accanto di c'è Tra discorsi profondi E come sempre Tanto sport Difatti Sullo sfondo La gara valida Per il campionato Di prima categoria Tra Novoli e Doccia E da lì Il fil rouge Un po' Con torto forze Ma alla fine In qualche modo Con una sua logica Nella vita più liete novelle O docce fredde E se prevalgono le docce fredde Alle volte anche gelide Non però sugli spalti Dove l'atmosfera è più incandescente Gli animi si surriscaldano Fortunatamente però La tensione dura Solamente pochi attimi E poi l'ora del prof Come di consueto Nella parte seconda Di trasmissione Aspettando Fiorentina Inter E per il gran finale Spazio alla musica Per augurare a tutti Un lieto E bestiale Natale In Christmas time And there is no need To be afraid In Christmas time We let in light And there is no need However Grazie a tutti.